Il conducente della corriera era al cellulare, non con un auricolare, stava proprio chattando, forse addirittura giocando. Ci sono studenti feriti e spaventati, due autisti di linea all'ospedale. La corriera è quella delle 6.47, linea Padova-Bassano. Sono sempre al telefono gli autisti, perché lo dicono sempre anche mia figlia, perciò voglio dire hanno sempre il telefonino in mano. Anche a Busitalia ho detto che era il telefono, parlo da genitore e ho detto che era il telefono. È un'accusa pesante quella che gli studenti che viaggiavano stamattina sulla linea Padova-Bassano muovono ora al conducente. Chattava il telefono e in più correva. Hanno detto che correva anche forte questo autista oggi. Quanti ragazzi sono feriti? Qui ce ne sono quattro attualmente. Avevo lo zaino qua, quindi di conseguenza lo zaino è riuscito a dare tutti i miei colpi. Qui mi sono fatta un pochino meno male. Visibile la collera dei genitori che al pronto soccorso accanto ai loro figli ci raccontano tutto. Hanno il diritto di avere un servizio che portano i ragazzi da casa alla scuola in sicurezza. Non si può correre o avere il cellulare in mano. Non si può. Ogni volta succede sempre questi problemi qua. Ogni volta. O li lasciano a terra i ragazzi o non si fermano. Sempre un casino. Suo figlio si è fatto male? Sì, ho dovuto andare a prendere la scuola perché non sta bene. Sì, ho avuto.